Maltrattata e condotta con la forza in Romania insieme ai suoi figli minori. È una storia di continui episodi di violenza fisica e psicologica, quella subita da una giovane donna di origine rumena, vittima del coniuge già oggetto di una misura restrittiva da parte della procura di Castrovillari che ne impediva l'avvicinamento alla compagna. In curante del provvedimento, il 37enne, anch'esso rumeno, ha prelevato la donna contro la sua volontà con l'intento di condurla in Romania, costringendola a salire a bordo della propria auto insieme ai due figli per raggiungere il porto di Brindisi ed imbarcarsi lasciando l'Italia. La donna, appena giunta in Romania, approfittando di un momento di distrazione del marito, è riuscita a contattare telefonicamente il commissariato di Corigliano Rossano informando dell'accaduto. La polizia, dopo una tentatività di appossamento e controlli, ha arrestato l'uomo appena rientrato in Italia. Il 37enne ora è stato tradotto nel carcere di Castrovillari.